La Snam nelle sembianze di Kali, nera e a sei braccia, la dea hindu del male e del potere che straccia e deride le richieste di giustizia e trasparenza dei cittadini. Un palco improvvisato a case pente, davanti al cantiere della centrale di spinta e compressione e una battaglia, quella dei comitati cittadini per l'ambiente, che assume le forme più disparate ieri, anche quella della messa in scena, dello spettacolo teatrale. Sceneggiatura di fatti realmente accaduti che stanno accadendo, i pericoli ignorati per l'orso di passaggio, la necropoli ritrovata sottoterra, la sicurezza sismica non indagata, le prescrizioni non rispettate, le autorizzazioni, dicono i comitati, scadute e una valutazione di impatto ambientale datata e che non rispetta la vocazione del territorio. Il tutto per costruire un impianto che costerà 2 miliardi e mezzo di euro ai cittadini e che non servirà, ribadiscono gli attivisti, perché di gas nei tubi ce n'è anche troppo rispetto alle necessità del paese, anche e soprattutto nella prospettiva della transizione energetica. Quanto bassa perché il procuratore dei cittadini condannasse la Dea Calisnam e apponesse sempre simbolicamente i sigilli al cantiere. Questo cantiere sta andando avanti in maniera illegale, risottolineo illegale, quando a 100 metri il comune alcuni anni fa ha sequestrato un pollaio con la motivazione che violava le norme urbanistiche. Abbiamo sequestrato finalmente il cantiere della Snam che è abusivo perché le autorità non si muovono e quindi ci hanno pensato i cittadini. La Snam dal canto suo non si ferma, conferma l'edificazione della centrale a Casepente già a partire dal prossimo mese e in poco più di un anno la sua conclusione per poi collegarla al gasdotto sul Monafoligno, quello ancora nelle ultime fasi autorizzative. Una determinazione che non spaventa i comitati, pronti anche a mettere le tende in senso fisico a presidio di Casepente, a passare dal palco alla trincea. Noi continueremo con tutti i mezzi che ci sono consentiti dalle leggi, ma se è necessario anche andare un po' oltre, come abbiamo fatto entrando l'altra volta nel cantiere.